Ciao ragazzi, bentrovati su TCG Television da Daniel e da Skla per una nuova sfida di sbustate con Pokémon Card Game, espansione Turbo Blitz io sono un amante della versione Mega Y di Mewtwo sfiderò Skla che ha deciso di appoggiarsi a Mewtwo X lanciamo la sigla e poi comincia subito la sfida Siamo pronti, stavolta cominciamo a scavare inizio io, facciamo una a testa, subito col botto subito col botto, ecco già ho rotto la bustina subito col botto, via la bustina via, trix Sklaz, polez Zora, si vede? Sì, c'è una luce strana Zora! Ci riversano una luce règles, vanillite gelatino abbiamo un must of a freddino noi trovi Flabelle del Gellatore un altro Zora, non 그런 gelatore che dicono fennecini frogatier vocal fact attenzione, parlando di frogatier devono buttarvela lì la prossima espansione Greninja Break Mekoyons intanto ci sono gli spetti dentro casa Wambafett Kakaturn Reverse Comune Electro un bel pigasciozzo e l'ultima te parto subito col bottone, è vero Empolio è Olo? si è Olo che fa 20 anni in più come buono il tuo bersaglio quale Mewtwo scelgo? questo qua ci porterà spero un mega Mewtwo Y full art sarebbe il mio obiettivo primario puoi sempre che mi abbassi avanti ne lo so però ho visto tanti che hanno trovato da un modo l'opera almeno cominciamo con Noibat c'è sfida tra l'altro ma che nemmai c'è una più accadente non è affatto che non ho fatto il contratto che energia non è affatto ma non è affatto e basta ste mappe città si perdono non c'è più bello grazie a tutti i namboni che mi servono tipo Hunter tipo 10.000 trainer sono tutti quelli inutili Reverse Hunt Rainer Piscator percorbo elettro un reggio no e' cosa magneto e co bongo luogo scelta bec si 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 a me anchevenuti ultima bush la capo poco dopo il con l'uomo l'emore per E' un po'... io non so fiducioso di niente. Che ci dirai? Froki! E' il GM! E mi servono i Fraxs! E' per giocare a Mazzolus! Ma la Mazzolus è vita! Gioca la gramella rara! Ti aggassi per trovare! Meglio di così! Meglio di queste perdine al deserto! Swoobat! Che poi è un po' nabbo perchè l'acqua sta dietro! C'è una parte opposta comunque! Davvero! Non ce l'ha fatto caso! Swoobat! Una capra! 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 Reversa eh! Si! Reversa! Comune! BASTA! Com'igliarvi le mappe città! Mo' se è andava di venire! 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 E' andava di venire! Ma' andava di venire! Io non so mappe città! E' andava di venire! Io do sblocicare qualcosa! Un snobble di pongo! Che certo non l'avevamo mai trovato! Scamune! Io non lo faccio! Su 160 carte può succedere! Guardate! Troppo il campo! Adevo subito! Nooo! Ma' andata! Nooo! Mega grali! Exful art! Ma' ci manca! Che fa? Criobocca! Fa le criobocche! Megagrani! Ragazzi! Per chi lo sapesse! Megagrani fa le criobocche! Ho sentito parlare! Da 100 e più! Dipende dalla durata! Dipende dalla durata! A voi! Avevo sentito parlare di water blowjob! Ma di criobocca! Eccolo! E' lui! Ma che cazzo dai i nomi a te! Le mosse di qua! Non so! Vabbè! Mi pare tanto conosci e si ingeghiamo! Allora! Quindi una full art eh! E gli fa di meglio! Una full art fuori serio! E stavolta hai perso! Ammetti! A meno che non mi dini fuori quella! Chi è quella? Tanto di cappello! I miei due fuori serie! Che mi fanno quanto cacare! Eh vabbè però! Sono fuori serie! Quindi valgono abbastanza soldini! Big money! Big money! For us! Par us! Par us! Par us! E' un sedere pari! Stario! C'ho più gogotta che Skiddo! Skiddo c'ha da fare con quella! Vedi che sta montando! Vabbè! Ma bronzo! Che cazzo hanno cantato! Perchè mi sesso sempre quelle della leggenda di quelle! Eh ti domandavo! Meo! E' un altro lato l'acqua! E' bruttissima! Quella di un ridiglio! Quella di un ridiglio! Avribile! Bechi Hem! Si! Si! Io oggi! Ottivito! Le verse non comune! Starevi! E' di tipo buio! E' di tipo buio! E' Ivelta! Sono Ivelta! Ivelta! Olo! La! E' stavolta t'ho battuto! T'ho battuto! T'ho battuto! Ostra perso! Do stai? T'ho perso! T'ho battuto! T'ho battuto! Bello! T'ho battuto! Con la sua criobocca! Mega gladie! Hai vinto una criobocca! Da gladi! Non so io se! Passo! Passo! Bene ragazzi! Per questo video è tutto! Come sempre vi saluto! E come sempre ci vediamo al prossimo video! Ciao ciao!